Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Questo è il primo di una piccola serie di filmati riguardanti prova transistor. Vedremo il funzionamento di alcuni di essi che ho in laboratorio in maniera tale da poter capire le differenze che ci possono essere tra diversi apparecchi destinati allo stesso scopo. In questo video vedremo in funzione il modello IT3120 della ditta americana EAT-Kit che produceva strumenti di misura di ottima qualità da assemblare in kit. Questo apparecchio con alcune modifiche è stato prodotto dal 1971 al 1989 e veniva venduto all'epoca da assemblare per circa 60 dollari. L'IT3120 può misurare sia diodi, transistor e FET. Noi ci limiteremo alla parte transistor. I parametri che può misurare sono il guadagno che viene testato fornendo una piccola corrente in base e misurando poi la corrente di collettore. La differenza fra questi due parametri determina il beta o HFE del transistor in prova. L'apparecchio può anche rilevare se ci sono correnti di perdita tra le varie giunzioni quali ICEO che è tra collettore e emettitore a base aperta, ICES che è tra collettore con base in cortocircuito e ICBO che è tra collettore base con emettitore aperto. Adesso vi farò vedere l'interno dello strumento. Come potete notare è stato assemblato piuttosto bene ed è inoltre fatto con materiale di ottima qualità con abbondante uso di alluminio e viti in acciaio inox. Poca o quasi assente la plastica. Adesso rimonterò l'apparecchio e poi ritorneremo qua per la prova. Ecco di nuovo l'apparecchio rimontato. Passiamo ora alla descrizione del pannello di controllo. Gli interruttori nella parte bassa sono disposti in maniera intuitiva e riportano scritte rosse per i FET e scritte nere per i transistor NPN o PNP. Accanto all'interruttore di accensione si trova il test della carica delle batterie che andrebbe provato prima di ogni uso. Partendo dalla sinistra ecco le funzioni dei vari interruttori. Taratura del beta per l'infinito che si regola con il potenziometro multigiri in alto a sinistra con la scritta beta infinito. Accanto abbiamo beta calibrazione che serve per portare la lancetta a fondo scala e si regola con il potenziometro in alto a destra con la scritta beta calibrazione. Abbiamo poi il tasto beta che premendolo dalla misura del guadagno del transistor. Poi ci sono i tre interruttori, i CBO, i CES e i CEO per testare eventuali perdite del componente. I commutatori posto in alto sotto la scritta range determinano la corrente di teste per i diversi tipi di transistor in base alla classe del transistor stesso, se di piccola potenza o di potenza più elevata. Le correnti riportate saranno quelle di collettore e non quelle di base come altri prova transistor, cosa molto utile per non sovraccaricare mai il componente in prova. Le correnti di collettore disponibili sono 100 microampere, un microampere, un milliampere, 10 milliampere, 100 milliampere e un ampere per i transistor di potenza. Testiamo ora un transistor di bassa potenza come il BC107. Esso può essere inserito direttamente nello zoccolo in alto a destra. Scegliamo una corrente adeguata, per esempio un milliampere e iniziamo il test. Per prima cosa, dopo aver acceso lo strumento, premiamo il tasto beta cal, ed azzeriamo l'infinito in maniera tale che la lancetta si porta inizio scala sul segno infinito. Per fare questo useremo il potenziometro multigiri set beta. Una volta azzerato premiamo il tasto beta cal, ricordandoci che in questo potenziometro relativo sia ruotato tutto in senso anti-orario, questo per evitare che la lancetta sbatta a fondo scala. Con il potenziometro dobbiamo portare la lancetta a fondo scala 10%, 10 per, anzi, come consigliato dalla ditta. A questo punto possiamo premere il tasto beta e andare a leggere il valore sulla lancetta dello strumento, ricordandoci di moltiplicare per 10 il valore letto. In questo caso è circa 200, poco più di 200, perché 20 per 10 fa circa 200. Possiamo ora provare, diciamo, la perdita del transistor con i relativi tasti ICBO, ICES, ICEO. Essendo un transistor questo qui al silicio, come vedete, la lancetta non si è mossa da inizio scala. Rimuoviamo ora il transistor di bassa potenza e proviamo un transistor di potenza. Il transistor è già stato collegato con i terminali basi collettore emettitore al posto giusto. Ripetiamo le misure sopraeffettuate su un transistor di potenza questa volta, nei quali spesso è necessario conoscere il guadagno per poterli accoppiare in un amplificatore o più semplicemente in alimentatori che usano più transistor in parallelo. In questo caso, quanto più il guadagno è simile, meglio lavorerà l'apparecchio in cui andranno montati. Una cosa da notare è che richiedono una maggior corrente di collettore. Questo è importante per decidere il pilotaggio degli stessi senza avere sorprese. Testeremo il transistor con una corrente di collettore di 100 mA e poi con una corrente di collettore di 1A. Il beta praticamente è già zerato da prima. Adesso dobbiamo stare attenti a non far sbattere la lancetta a fondo scala per fare il confronto del beta. Allora con una corrente di 100 mA, se io premo il tasto beta, ottengo un guadagno di circa 150-160. Ora in questa maniera da dove sono la vedo male. Comunque diciamo il guadagno è circa 150-160 con una corrente di collettore di 100 mA. Se io vado a impostare adesso una corrente di 1A, come potete vedere il guadagno si riduce leggermente. Siamo passati a poco più di 100. Questo perché aumentando la corrente di collettore e la corrente di base il guadagno si riduce. È importante effettuare correttamente queste misure sui transistor per poterli accoppiare, specialmente se un alimentatore deve erogare parecchia corrente. Ripetiamo le misure appena effettuate con un prova transistor della serie economica che si trova su tutti i vari ebay o aliexpress. Questo è un prova transistor che alle volte è molto utile. Ora proveremo a misurare ancora il transistor di bassa potenza. Con un transistor di bassa potenza spesso i risultati sono molto simili. Infatti qui vediamo un beta di 213 contro un beta di poco più di 200 che si andava a leggere con un prova transistor più performante. Le cose comunque cambiano se andiamo a misurare un transistor di potenza perché non sappiamo un prova transistor di questa generazione con quanta corrente va a pilotare il transistor e semplicemente non abbiamo la possibilità di regolare questa corrente. Se ora ripetiamo la prova sul transistor di potenza che prima praticamente ci dava un guadagno di circa 200. Andiamo a vedere che il guadagno che misurerà sarà completamente sballato. Mi dà un beta di 52 che non è affatto corretto per il transistor in questione. Probabilmente questo prova transistor eroga una corrente di base talmente piccola che non riesce a pilotare correttamente il transistor di potenza. Ora lo togliamo. Abbiamo visto che per quanto riguarda un transistor di potenza è sempre meglio usare un prova transistor più professionale per avere dei risultati molto più attendibili. Questo video è finito. In futuro vi farò vedere altri prova transistor in mio possesso tra cui un bellissimo avometere inglese il TT537 veramente ben conservato. Se il video è piaciuto considerando anche che è il mio primo video mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!